Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. In questo video parliamo di espressioni idiomatiche legate al mondo degli animali. Ok, dicevamo parliamo di espressioni idiomatiche legate agli animali. Continuiamo. Ha un significato perché è costruita così. Ho fatto un video sulle espressioni idiomatiche più comuni in italiano. Trovi il video a questo link qua sopra, se vuoi. Ma cominciamo. Vediamo in questo video sette espressioni idiomatiche molto utilizzate in italiano legate al mondo degli animali. Va bene? Cominciamo con la prima. La prima espressione idiomatica legata al mondo degli animali è sputare il rospo. Hai mai sentito nella realtà o in un film qualcuno dire sputa il rospo? Sputare il rospo significa decidere di dire qualcosa che prima non volevamo dire. A volte noi non diciamo delle cose perché sono imbarazzanti e ci vergogniamo o perché sono un segreto o perché abbiamo paura di ferire o fare arrabbiare qualcuno. Ma quando decidiamo di dire quelle cose sputiamo il rospo. Corrisponde all'espressione inglese spit it out. Vediamo un esempio. L'espressione idiomatica legata agli animali numero due è sentirsi come un pesce fuori 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 fu naturale ci sentiamo come un pesce fuor d'acqua. Per esempio, se tu sei una persona che ama il silenzio e la tranquillità, se vai in discoteca forse ti senti come un pesce fuor d'acqua, no? Vediamo un altro esempio. Alla festa di Paolo c'era tutta l'alta società di Milano. Io mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. L'espressione idiomatica legata al mondo degli animali numero tre è piangere lacrime di coccodrillo. Piangere lacrime di coccodrillo significa simulare una sensazione di tristezza senza in realtà provare questa situazione. Quindi quando qualcuno commette un'azione cattiva o fa qualcosa di male verso qualcuno e poi finge di essere triste e disperato, piange lacrime di coccodrillo. Vediamo un esempio. Piero ha lasciato Sonia ieri. Lei soffre moltissimo e guarda a lui come finge di essere disperato. Sono solo lacrime di coccodrillo. Ma lo sai perché si parla di lacrime di coccodrillo? Te lo spiego io. C'è un detto popolare secondo cui quando un coccodrillo mangia una preda, piange. In realtà non è vero. Il coccodrillo lacrime. Ma le lacrime servono per espellere i sali minerali e per lubrificare l'occhio. Quindi non si parla di sensazioni ma di bisogni fisiologici. Ma vediamo ora l'espressione idiomatica numero quattro. Cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia è quella cosa che ci viene meglio. È il nostro punto di forza, la cosa in cui siamo più bravi. Vediamo un esempio. Io suono molti strumenti musicali, ma il pianoforte è il mio cavallo di battaglia. lento come una lumaca. È intuitiva, no? Lento come una lumaca significa semplicemente lento. È una persona lenta che ci mette molto a fare qualcosa. Ok? Sbrigati, dobbiamo arrivare in aeroporto tra mezz'ora. Sei lento come una lumaca. E l'espressione legata al mondo degli animali numero 6 è in bocca al lupo. Forse qualcuno si ricorda che ho già fatto un video su questa espressione. Ho fatto un video in cui spiego nel dettaglio il significato e l'origine di questa espressione. Potete trovarlo nel link qui sopra. In bocca al lupo significa buona fortuna. Si usa quando vogliamo augurare buona fortuna a qualcuno. Qualcuno che deve affrontare una situazione particolare. Un esame all'università, una visita medica, un'operazione, uno spettacolo teatrale. Qualsiasi evento in cui vogliamo augurare buona fortuna possiamo dire in bocca al lupo. Ma l'ultima espressione legata al mondo degli animali riguarda ancora il povero rospo. Perché la settima espressione è ingoiare il rospo. Ingoiare il rospo. Questa espressione significa accettare e sopportare una situazione anche se non ci piace. Quindi quando ingoiamo il rospo accettiamo un evento o una situazione perché non abbiamo un'alternativa, non c'è altra soluzione e quindi ingoiamo il rospo. Vediamo un esempio. Il nuovo collega è decisamente antipatico, ma come sempre ingoio il rospo e fingo che vada tutto bene. Ok, queste erano sette espressioni idiomatiche legate al mondo degli animali. Ho già una lista di altre espressioni nel mio quaderno quindi farò un altro video presto. Per il momento ripassa queste espressioni e se vuoi puoi scrivere qualcosa nei commenti qui sotto. Ti ricordo che se vuoi ricevere i miei video ogni volta che li pubblico puoi cliccare nel pulsante iscriviti o subscribe qui sotto. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. A presto!